Buongiorno da Basilica di Pinè, sede dello Spischetti per la candidatura di Milano-Cortina 2026. Sono Matteo Anesi, medaglia d'oro a Torino 2006, adesso faccio allenatore. Oggi è una giornata terribile, piove, c'è molta nebbia, non si riesce a vedere lontano. Ma noi guardiamo lontano, oltre questa nebbia, e crediamo nel sogno di Milano-Cortina 2026.